salve amici allora come promessa andiamo a flussare ora la testata del mille due otto valvole che abbiamo controllato a livello di problemi e andiamo a flussare prima con il collettore e poi dopo che abbiamo fatto il grafico della prima prova di flussaggio andiamo a provare soltanto la testata e dopo andiamo ad analizzare un po il comportamento che si è creato a livello di portata nel condotto e alla fine poi andiamo valutando altri lavori che si possono migliorare anche se in questo caso alcune cose ci limiteremo nel farle però vi andrò a riscrivere il comportamento sia del collettore vi darò alcune misure per poter effettuare anche il montaggio della testata quindi andiamo a fare la prima prova ok amici abbiamo fatto la prima prova ora andiamo a flussare la testata senza collettore e poi andremo ad analizzare le due prove allora amici ho finito di fare le due prove di flussaggio sia dalla testata con quella col collettore per di più ho aggiunto l'altra testata quella del fire che avevo fatto una volta all'inizio del video dove c'era un decentramento della sede ora andiamo a descrivere pure questo passaggio perché l'ho voluto fare e cosa abbiamo trovato questo è intanto un altro lavoro che già andiamo a fare nel prossimo video allora prima di analizzare i dati vi vado a descrivere un po il condotto le formule che ho trovato per andare a trovare il giusto riempimento anche se qui in questa posizione c'è un errore perché il collettore come sezione di dove attacca la testata è leggermente più grosso quindi normalmente le sezioni dovrebbero essere al contrario il collettore più piccolo è una sezione della testata leggermente più grossa al limite di mezzo millimetro a giro anche un millimetro per poter fare una sezione di imbocco di un 45 gradi dove il collettore è più piccolo quindi non abbiamo sezione diciamo che può fare di impedimento dal flusso anzi questo discorso ci può fare di antiriflusso a salire verso sopra lo frena e quindi abbiamo una condensazione di flusso nella parte della testata comunque descrivendo le varie misure alla fine ho trovato e anche poi ho modificato sulla testata lo andiamo a vedere 31,2 come passaggio sulla sedia valvola finita 30,5 dove c'è proprio la curvatura della guida dove scende la valvola anche se poi in questa zona normalmente andiamo a lavorare per avere un riempimento maggiore perché la linea segue questa traiettoria comunque questo qua in questa testata qualcosa fa ma quella più importante della lavorazione sul condotto del fire è questa parte qua invece di seguire il solito andamento che noi non andiamo a lavorare questa parte della curvatura stretta in questo caso lo dobbiamo raccordare leggermente di più rispetto a questa sezione e comunque in questo punto abbiamo 30,5 perché la valvola come dimensione abbiamo sceso da 31,2 scende fino a qua è quasi ferma perché abbiamo 30,5 la parte stretta del condotto nella testata è leggermente più grande come abbiamo detto l'altra volta nel video è 28,5 invece basta 28 perché l'ho provata con l'altra testata però ormai quello del lavoro è fatto e ora andiamo a descrivere che cosa ci comporta questa sezione ancora più grande poi all'imbocco le misure giuste sarebbero 31,5 e 29 anche se nella testata abbiamo 30 e 32 lo possiamo restringere perché non comporta nessun rallentamento al flusso anzi forse come vedremo dal diagramma lo andiamo a migliorare quindi l'unico lavoro da andare a fare visto che qua ormai non possiamo fare più niente nel collettore in questa parte qua ora nella testata poi andrò a fare leggermente questo lavoretto per non avere riflusse di ostacolo nella testata poi come dimensionamento al di là di questo sulle farfalle abbiamo le farfalle da 38 che ora vi faccio vedere e 41 l'imbocco della trombetta il totale è 350 mm come lunghezza totale che si parte dalla sede valvola fino all'imbocco dell'uscita della trombetta non quella proprio esterna ma l'imbocco interno dove inizia poi la raccordatura della trombetta e questo è come lunghezza totale quindi ora andiamo ad analizzare i dati che ho fatto le tre diverse prove e poi vi faccio vedere sulla testata che cosa poi ho modificato sull'altra per fare una comparazione e allora andiamo ad analizzare i dati nella prima prova che ho fatto questa curva che vedremo che voi andate a vedere sullo schermo questa non è altro che la prova che ho fatto con il collettore e la testata assieme quindi al di là del condotto che si vede un buon tiraggio sia a livello di struttura e poi continua ad arrivare fino a 11 mm poi io ho fatto la prova a 14 mm ma non c'era la necessità ma ho voluto constatare fino a dove tirava a livello di condotto poi ho tolto il condotto il corpo farfallato con la trombetta e ho fatto soltanto la testata se andiamo ad analizzare la testata soltanto abbiamo qualcosina di differenza qui alle basse aperture ma poi quello che è importante valutare è che in alto anche iniziando da 10 mm di apertura di valvola la testata guadagna da sola questo perché come andiamo ora a vedere sul collettore noi abbiamo una curvatura che ci impedisce di avere migliore rendimento perché la testata ce lo dimostra quindi se noi invece di questo collettore con la curvatura verso in alto che non so io sinceramente sulla macchina se comporta un ostacolo oppure si possono montare dei condotti e delle farfalle dritte per come segue il condotto avremo questo miglioramento ancora in più ma con questo collettore ogni curva che fa abbiamo questo rallentamento lo vedete sulla differenza di curva la terza prova che io ho fatto è quella testata che vi ho fatto ricordare del 1800 diciamo del 1200 io all'inizio qua ho detto che era un 1200 invece è un 1100 come abbiamo detto è 71,2 di pistone e 72 di corsa ora questo motore dovrebbe tirare 8500 giri perché per la tipologia di gamma che è montata è come sezione di passaggi di condotti che sono stati ottimizzati per questo utilizzo quindi la macchina aveva un problema che si stabilizzava a 72 oltre non andava perché giustamente ho riscontrato che era fuori fase e poi c'era un altro difetto che ora andiamo a vedere sulla testata quindi per questa ottimizzazione di giri il motore è predisposto a girare giustamente non possiamo avere questo lavoro fatto pure su un'altra testata io precedentemente ho fatto sulla testata del sulla prova quello che abbiamo fatto all'inizio diciamo dei libidi era una testata con una sezione molto ridotta perché montava una gamma di 108 come come calettamento invece questa qua è una 103 poi i dati dell'alzata lo andiamo a vedere perché penso di fare il video pure sulla messa in fase del motore quindi andiamo a descrivere bene le alzate delle gamme della gamma poi quando andiamo a fare il montaggio e l'altra prova che ho fatto io è questa qua quindi andiamo a togliere il collettore che abbiamo una portata leggermente minore quello che ho fatto io alla fine è questa curva qua come vedete da 3 mm migliora fino a 9 mm da 9 mm poi a 10 mm abbiamo lo stesso la stessa portata e poi in alto si stabilizzano più o meno le stesse diciamo portate anche perché qua siamo oltre 12 mm di alzata quindi siamo a 14 mm ma come vedete il riempimento c'è questo miglioramento dove è stato portato in quella testata io avevo fatto un decentramento della guida quella guida è una sezione di passaggio leggermente minore ma sul condotto non sulla sede perché io la sede l'ho dovuta adattare per fare un confronto con questa e per di più queste due prove sono state fatte con la stessa valvola quindi non abbiamo cambiato né il profilo di valvola nemmeno altre cose quindi ora andiamo a vedere le due testate a confronto e poi come abbiamo visto anche in questa testata se io andavo a montare il collettore avevo la stessa portata di questa quindi il collettore ci va a disturbare un po' a tirare in alto è il collettore che poi ci limita ma sulle aperture maggiori giustamente la sezione io vi dico sempre ogni condotto che poi da una leggera curvatura piccola per quanto è ci restringe un po' ci limita il motore diciamo quindi andiamo a valutare le testate da vicino e allora sempre per fare un confronto avevo caricato poco fa un altro file che era quello della testata pbs e allora vediamo se riesco quando io vado a fare le due sovrapposizioni questa è quella della pbs e questa è quella del fire come vedete quella del fire tende a migliorare di più e quella del pbs era come sezione di passaggio 28 mm si potrebbe ancora lavorare a livello di sezione sede però perché non l'ho fatto anche perché la velocità è quella determinata dal pistone abbiamo una cilindrata più piccola anche come pistone la valvola la valvola è più vicina alla parete del cilindro e quindi non so se andrà a migliorare di tanto però ci sarebbe da poter lavorare per andare ancora in quella testata a migliorare qualcosa il progetto che sto facendo è di fare quelle camere di scoppio in plastica per poter andare a lavorare come 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 disegno di camera di scoppio e quindi avere un disegno più lavorabile quindi andiamo a sfruttare la migliore geometria e poi l'andiamo a riportare volendo sulla testata questo è quello che voglio andare a fare avere fare un calcolo un calcolo in negativo della camera di di scoppio e questa poi lo andremo a montare con la valvola lo metterò sopra il banco di flussaggio e quindi andiamo a sfruttare il collettore che voglio andare ad applicare qui sul condotto e qui andiamo a mettere la guida con la valvola giustamente in questa prima maschera che ho scritto qui sto imparando anche a fare qualche cosa a livello questo è un calcolo un calcolo del blocco testata del 112 abart come diametro di 67,4 l'ho fatto per la maschera del cilindro quindi sarebbe questo il cilindro da mettere sul banco poi andremo a montare la falsa camera di combustione e qui andiamo ad applicare i vari condotti per poter fare delle prove di flussaggio cambiando sia l'inclinazione sia la geometria del condotto per andare a vedere se possiamo trovare il limite diciamo delle testate che andiamo a flussare quindi questo è un lavoro mio che vado a fare per vedere di andare a trovare qualcosa modificando sia come inclinazione di guida e sia come inclinazione di condotto ma questo è un discorso che poi parleremo dopo e allora queste sono le due testate a confronto questa è quella del motore e questa è quella che avevo io fatto con la guida decentrata se l'andate a vedere c'è la guida che è leggermente decentrata verso lo scarico ho dovuto chiudere questa sezione della camera di scoppio perché c'era fatta una leggera semisfera che a noi non ci interessa e ora andiamo a valutare le dimensioni questa è una valvola da 28 mm come diametro e andando a valutare i condotti come vedete questa scendendo si ferma e si mantiene e questa qua invece scende tutto ma abbiamo una differenza come abbiamo detto di menzo millimito quindi non c'è nessun ostacolo entrerisce quindi sovradimensionata leggermente anche se influisce poco però abbiamo una risposta sul pedale dell'acceleratore leggermente inferiore a questa a parità che questa qua è migliorata però è dovuta anche al decentramento della guida come dimensione di passaggio condotto qua sotto la sede abbiamo 30,5 questa testa valvola e andando a fare un confronto come vedete la valvola entra e si ferma proprio all'altezza della guida quasi quindi questa questa battuta che si ferma e anche in questa io l'ho riportata con la stessa lavorazione e si vede che si ferma al centro della guida poi questa qua io l'ho portata qualche 5 decimi in più rispetto come passaggio dell'altra testata e come camera di scoppio questa è leggermente la valvola più lontana andiamo a vedere perché la particolarità della valvola sta leggermente più distaccata dalla parete in confronto all'altra poi quello che volevo farvi notare quindi sulla testata abbiamo capito un po' il concetto sul collettore ora io non so che tipo di collettore qualcuno mi chiedeva di che cos'è io posso intanto non posso fare pubblicità a livello di che cos'è vi posso dire soltanto che un kit fornito con le quattro trombette il corpo farfallato e quindi tutto un insieme come vedete qua ne ho voluto smontare una per farvi constatare il tipo di lavorazione che c'è fatta una guida per il centraggio delle trombette andiamo a vedere la parte della trombetta che va ad incastrare dentro il corpo farfallato e poi qua ci viene il cassonetto chiuso con il bocchettone laterale che fa quindi dal riempimento ai quattro condotti e l'unica cosa che posso ancora dire abbiamo detto la sezione delle farfalle sono da da 38 mi sembra esatto e quindi come lunghezza totale l'ho valutata per quei numeri di giri quindi dimensionemente condotte e lunghezze dei condotti vanno per questo utilizzo della gamma e per questi giri del motore e siamo agli 8500 giri poi se non so se tutto andrà bene può tirare ancora di più ma il limite sembra dovrebbe andare in questi numeri di giri normalmente se noi andiamo a montare un incrocio leggermente inferiore come come gamma non possiamo avventurarci a fare dei condotti così ampi come passaggi anche come sede perché abbiamo poi giustamente in base all'utilizzo della gamma una sezione molto più larga e quindi abbiamo un utilizzo del motore che non ci accompagna nei giri del motore quindi questo sezionamento è fatto proprio per questi giri del motore spero che mi sia espresso bene poi se qualcuno ha qualche cosa in privato mi può chiedere se io posso sapere i collettori quale sono questo kit che monta quindi poi passeremo all'altro video e vediamo di fare altri lavori stavo per dimenticare l'altro problema che ho riscontrato su questo motore a parte la fasatura è che pure andava in surriscaldamento il motore perché non andava più a scaricare bene visto che era troppo anticipato e surriscaldava è il gioco delle valvole l'ho trovato leggermente impuntato quello dello scarico e di fatti rimanevano leggermente le valvole aperte e di fatti sono leggermente bruciate perché giustamente le valvole non chiudevano bene quindi scaricava pure e quindi non andava bene in compressione questa è l'altra cosa che avevo fatto quindi i lavori che avevo detto all'inizio le saldature sulla testata che sono leggermente rovinate per il fattore dal passaggio con acqua e liquido e all'inizio crea questi problemi e quindi sarà fatta una spianatura per aumentare leggermente il rapporto che l'ho trovato un pelino basso e lo andiamo adattare ai giri del motore e vediamo di andare a compensare un po' l'utilizzo dei giri del motore ci andiamo poi a risentirci al prossimo video